La festa di Sant'Antonio torna a Sabioneta dopo i due anni di pandemia, torna per la quarta volta, torna con un numero di trattori incredibile, 130 rispetto agli anni scorsi e un aumento ulteriore di presenze, presenze che arrivano da tutto il territorio. È una festa che è sentitissima da tutta la popolazione locale, da tanti sabionetani volontari che partecipano, dalle tante attività coinvolte anche nell'organizzazione, poi del pranzo eccetera e quindi è sicuramente un appuntamento ormai fisso e imperdibile. Grazie alla Proloco organizzatrice, grazie a tutti i presenti, la festa dell'agricoltura del territorio coincide con la festa di Sant'Antonio di Sabioneta che oggi finalmente torna nella nostra città. Ritorniamo dopo due anni con la festa di Sant'Antonio, è partita nel 2018 così per scherzo, per fare qualcosa di nuovo e siamo qua ancora a portare trattori e un po' di divertimento a Sabioneta. È la festa organizzata dalla Proloco insieme ai suoi volontari. Oltre ai mezzi nuovi in esposizione abbiamo anche molti mezzi d'epoca e nella piazza principale abbiamo anche tre macchine da tractor pooling che dal 2022, l'estate del 2022, ha portato questo evento a Sabioneta e che nel 2023 si ripresenterà.